E' iniziato un altro mese, siamo ancora all'inizio di questo 2023, ma credetemi, stanno uscendo certi manga veramente incredibili, ed oggi l'elencherò con l'uscita di manga di febbraio 2023, ma non perdiamo tempo e cominciamo subito. Partiamo da Star Comics che pubblica il mercoledì, quindi dall'1 febbraio. Claymore New Edition 4, Eden Zero 17, My Hero Academia 35, Shaman King Flowers 1, Yuko, 8 febbraio, The Mo Slayer 22 con Limited Edition, Echos 10, Fairy Tail New Edition 62, In The Clear Moonlight Dusk 3, Lullaby of the Dawn 1, No Guns Life 13, Scam's Wish 3, 15 febbraio, Cacko Noninazuga Early Premiere, Blue Box The Blue Box Edition, Detecticcola New Edition 32, Dragon Ball Ultimate Edition 10, Kamisama Kiss New Edition 2, No of the Blood Sea 5 con Limited Edition, One Piece New Edition 97, Ultraman 15, Vanishing My First Love 3, Welcome to the Ballroom 1, Whisper Me a Love Song 6, 22 febbraio, Cacko Noninazuga 1, Blue Box 1, Ghost Girl 4, Inuyasha White Edition 9, Kaisunamber 8, Living Room Matsunakasan 11, Owen, One Piece Quiz Book 3, The God of High School 1, Tokyo Aliens 2, Subaki Sholone New Planet New Edition 7, E ora passiamo a Jpop con le stesse date di Star Comics, quindi dall'1 febbraio. BJ Alex 11, Call of the Night 6, Canis the Sfigure 1, Il Mistero di Non Kamono Ashi 3, La Nave di Deseo 2, World Art Online Light Novel 18, Tokyo Revengers Pack 2, 8 febbraio, Blue Giant 5, Dance Dance Don't Sare 11, Irate L'Ultimo Viaggio 1, Radiation House 11, Smile Down the Runway 10, Tokyo Revengers 23, Tokyo Revengers Character Book 2, 15 febbraio, Alice in Borderland 7, BJ Alex 12, Blood Bank 4, Ferrir 3, I Am Iron Edition 11, Ice Guy e Cool Girl 1, Loro Olympus 3, My The Sub Darling 8 con Deluxe Edition, Renta Girlfriend 13, 22 febbraio, Cioccolatiere, Cioccolata per un Cuore Spezzato 7, Irate L'Ultimo Viaggio 2, Insomniac After School 2, Kemono GN 15, Kingdom 56, Yozakura Family 10, E ora passiamo alla Planeta Manga che pubblica il giovedì, quindi dal 2 febbraio, Meru Kochan 1, L'Olovo Zone 1, Songot 1, 9 febbraio, Agente 008 17, Demon Slave 7, La Leggenda di Aslan 17, Moriarty The Pediot 18, Solidar Ultimate Deluxe Edition 2, The Witch and the Beast 1, Anded Alack 8, 16 febbraio, Berserk Maximum 27, Blu Lock 19, Deadpool Samurai 1 insieme alla Variant, Excuse Me Dentist 4, Kleipnir 12, Lusuraio 39, Mushoku Tensei 17, Proteggi la mia terra 10, Ragnacrimson 11, Sasaki Emigliano 6, Songot 2, 23 febbraio, Blu Lock Variant 1, Durank insieme al bundle di Berserk Variant 1, Kingdom Hearts 2, Silver 4, Tricks Dedicated to Witches 1, World Finest Assassin 2, Scusatemi se interrompo le uscite ma ben il 78% delle persone che guardano i miei video, non si iscrivono al canale, quindi se volete supportarmi iscrivetevi e lasciate un like al video, ringrazio di cuore chiunque lo farà, ma ora continuiamo con le uscite, e ora passiamo a Dynit con giorno 17 febbraio, Animal Crossing di Aro dell'Isola Deserta 5, Beck 8, Full Knight 3, La Stella dei Giants 7, Snowball Earth 2, Quadra Oppio 1, Utopias, e ora passiamo a Magic Press con giorno 23 febbraio, Amore Senza Frontiere Deluxe Edition, Cosmetic Play Lover 5, Il Buio 8 e la Finestra Trangolare 9, Kuroneko Komamero un Gatto Nero 1, Redo Filler 10, Skip Beat 23, Teminets in Shadow 6, e ora passiamo a 001 edizioni con giorno 3 febbraio, Carisma 2, Cinema 3, Gany Balotto, Gendiro Shima Tankobon 3, e ora passiamo a Bob Publishing con giorno 10 febbraio, Not Simple, 24 febbraio, Da Ambien Futurand 1, e ora passiamo a Saladabress con giorno 24 febbraio, Toi 4, e ora passiamo a Ishi Publishing con giorno 4 febbraio, Tokyo 2 l'1, 16 febbraio, Vita da Slime a Spasso per Tempest 1, e ora passiamo ad Asset, che ogni due mercoledì pubblica l'edizione integrale di Fairy Tail, giorno 8 uscirà il volume 4, mentre giorno 22 uscirà il volume 5, e ora passiamo alla gazzetta dello sport, con ogni martedì pubblica The Seven Dead Resents, e questo mese usciranno i volumi dal 3 al 6, anche questo mese sono finite le uscite, ma ovviamente vi ho detto solo le uscite confermate, quindi se nel corso del mese ci sanno rinvio delle uscite pubblicate all'ultimo, nel caso vi lascio un link in descrizione con la lista che si aggiungerà per tutto febbraio, e scrivetemi nei commenti quali sono i manga che prenderete durante il mese, e alla prossima! Ciao! 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 Ciao!